Age Evolution, concentrato double effect della linea Begos, un concentrato che si presenta in una confezione da 30 ml con un pratico dosatore. Ecco qui, il concentrato va applicato sotto la crema per aiutare a ridurre le rughe già esistenti e prevenirne anche la formazione di altre. Quindi è adatto per pelli segnate dal tempo o anche per chi vuol prevenire le rughe. Usatelo sempre mattina e sera. Ciao!